L'inflazione pesa sulle vacanze degli italiani e anche Fano ne risente. Vacanze brevi, prenotazioni last minute per il fine settimana, ma la città è pronta ad accogliere il turismo del mese di agosto con un calendario di eventi a dimostrazione dell'impegno delle amministrazioni per migliorare l'ospitalità nella città della fortuna. Messa in sicurezza della cinta muraria di Cartoceto, al via dalla prossima settimana i lavori di consolidamento, il punto con il sindaco Enrico Rossi. A Rosciano di Fano, lungo la Flaminia, sono quasi giunti al termine i lavori di messa in sicurezza del tratto che dalla vecchia chiesa arriva alla zona commerciale, obiettivo ridurre la velocità e rendere sicuro il passaggio dei pedoni. Ambito sociale e terzo settore collaborano per l'inclusione di persone con disabilità nei centri ricreativi e stili. I ragazzi puliscono la città dai rifiuti abbandonati dagli incivili, ASET, SPA e i centri estivi Giampi insieme per un mondo migliore e pulito. Un cordiale saluto cari telespettatori di Fano TV e benvenuti ad un nuovo appuntamento con occhio alla notizia. Inflazioni e spese straordinarie hanno notevolmente inciso sul turismo e anche Fano ne ha risentito. Calo delle presenze nel mese di luglio con brevi prenotazioni last minute. La città si prepara all'accoglienza nel mese di agosto per chiudere in positivo il bilancio di fine stagione. Stefania Buonomi Se all'inizio dell'estate Assoturismo aveva stimato un aumento del 7% del turismo estivo, l'inflazione pesa sulle vacanze del bel paese ed anche Fano con le sue spiagge e le attrattive storiche e culturali evidenzia un calo dell'affluenza turistica sia italiana che straniera. Poche le prenotazioni sul lungo periodo. Chi può permetterselo si gode il mare per una settimana, ma la maggior parte dei turisti preferisce le prenotazioni last minute anche solo per il weekend. Da Milano in vacanza a Fano, com'è che avete scelto Fano? Perché 4 anni fa siamo stati qua a Fano e ci è piaciuto e siamo tornati. E di Fano che cosa vi piace di più? Mangiare. Dove andate? In albergo o in appartamento? C'è un bungalow, abbiamo... Avete preso un bungalow? Quante famiglie, di quante persone? Sì. Posso chiedervi più o meno quanto spendete? 1.500 euro. Per 6 persone? È un prezzo giusto o...? Troppo, troppo. Tre anni fa abbiamo pagato 1.000 euro. Siamo in vacanza con gli amici perché facciamo 30 anni quest'anno, quindi abbiamo prenotato un Airbnb e siamo qua questo weekend. Posso chiederti dove alloggi? In un Airbnb. Il prezzo è giusto? Sì, eravamo soddisfatti, sì, sì. Penso sia 40 euro a notte, a testa, una cosa del genere. Come sono i prezzi? Eh, i prezzi sono, diciamo, un pochino alti. Dove dormirete voi? In un villaggio, in un camping villaggio. E i prezzi, diciamo, il nostro, sono abbastanza contenuti, però prima di scegliere questo ne abbiamo visti altri, sono un po' alti. Da Verona a Fano in vacanza, com'è questa scelta di venire a Fano? Perché Fano ha trovato l'equilibrio, Fano è tranquillo, Fano si sta bene, si mangia benissimo. Beh, per un weekend, in questo caso è un compleanno, quindi abbiamo dei pranzi, delle cene prenotate, diciamo che sui 300 euro almeno partono sicuramente. Non è stato semplice trovare un hotel libero, ha dei prezzi, diciamo, anche abbastanza familiari, però alla fine, con 300 euro pranzi e cene comprese, riusciamo a cavalci. Quelle poche disponibilità che ho trovato, perché ho prenotato sinceramente last minute, erano tutte allineate, bene o male, sulla stessa fascia prezzo, più o meno sulle 130-150 notte. Se gli albergatori si dichiarano comunque soddisfatti, un po' meno lo sono i gestori degli stabilimenti balneari, che lamentano un evidente calo sia del noleggio degli ombrelloni che della ristorazione. La stagione va bene, è stata un po' fiaccata dall'alluvione all'inizio, che è stata molto pubblicizzata in tv anche all'estero, e poi dalla grande ondata di caldo, però fortunatamente le persone scelgono sempre di tornare a Fano dove si trovano bene, e magari anche da noi, abbiamo i nostri clienti italiani ma anche stranieri, e quindi non possiamo sostanzialmente lamentarci. C'è stato più da lavorare nei weekend, come si succede in bassa stagione, però l'alta stagione è adesso alle porte, vedremo. Io ho un calo sensibile, non l'ho registrato. È cambiato il turismo, a parte il maltempo che sicuramente non ha aiutato l'affluenza, perché vedo che anche dagli hotel le prenotazioni arrivano per pochi giorni, mentre gli anni scorsi diciamo che la gente si tratteneva almeno una settimana, invece adesso tre giorni, quattro giorni, tutto veloce, mordi e fuggi. Effettivamente lavoriamo il sabato e la domenica, e durante la settimana veramente si affitta poco e niente, la gente spende meno, molto meno. L'ora di pranzo, il bar è vuoto, la gente mangia a casa, diciamo che il lavoro è cambiato, è diminuito, e noi ci adeguiamo alle situazioni. Ma siamo solo alle porte di un agosto ancora da vivere, e la città della fortuna, con un'amministrazione presente e propositiva sull'accoglienza turistica, è pronta all'ospitalità del mese di agosto, con la speranza che la fine dell'estate possa chiudersi in positivo. Questi giorni sono usciti dei dati di demoscopica, dove il luogo dell'inflazione generale, che è intorno al 5%, l'aumento dell'inflazione, l'inflazione turistica è intorno all'8,5%, quindi un differenziale di tre punti percentuali che in visione di una maggiore spesa turistica alcune persone che vorrebbero scegliere le nostre località hanno la tendenza a sceglierne altre che obiettivamente tendono a costare meno. Quindi una situazione che purtroppo crea problemi a tutto il settore turistico, ma per quanto riguarda noi come amministrazione comunale dobbiamo continuare a credere in ciò che stiamo facendo. La nostra città, la nostra destinazione, merita di far crescere il turismo per tutti gli investimenti che la città sta facendo, quelli riguardanti la nostra storia, la struttura della città. La nostra è una città bella e merita di essere vissuta. E un incidente è venuto oggi pomeriggio, nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, tra un'auto e una moto in via Giolitti a Pesaro. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'uomo alla guida del Mercedes stesse facendo una inversione a U e abbia preso in pieno lo scooter che sopraggiungeva da dietro. Lo scooterista è stato portato al pronto soccorso di Pesaro per via del dolore alla gambe e al petto, ma è rimasto sempre cosciente. Sul posto sono intervenuti sia l'ambulanza e i carabinieri. E un altro incidente invece si è verificato poco dopo le 18 sulla strada nazionale adriatica all'altezza del ristorante Mediterraneo. Un'autovettura che procedeva verso Pesaro, condotta da una fanese di 50 anni con a bordo un minorenne, ha svoltato verso sinistra per immettersi nel parcheggio laterale della struttura e durante la manovra ha tagliato la strada ad uno scooter scarabeo che transitava dalla direzione opposta, condotto da una donna anch'essa di 50 anni che trasportava la figlia minorenne di Sevici. Nell'urto il ciclomotore, con a bordo le due persone, è finito a terra e la mamma con la figlia hanno riportato lesioni per fortuna giudicate lievi. Sul posto, oltre alla polizia locale di Fano, per i rilievi di legge, il 118 che ha trasportato le ferite al pronto soccorso del Santa Croce. Alvia ha i lavori per la messa in sicurezza della cinta muraria di Cartoceto. Questa mattina, insieme al sindaco Enrico Rossi, abbiamo fatto il punto della situazione. Tre i punti in cui si andrà ad intervenire per un costo totale di oltre 1 milione e 600 mila euro. Importanti interventi nel comune di Cartoceto per la cinta muraria del paese. Un problema annoso che finalmente potrà trovare la parola fine. Sono tre, infatti, i luoghi individuati. Piazza Garibaldi, il tratto di Via delle Mura e l'intersezione con Via Marcolini e Via Mazzini. Costo totale di oltre 1 milione e 600 mila euro. Interventi fondamentali, imprescindibili per il centro storico di Cartoceto, non soltanto per la sua messa in sicurezza e quindi per la tutela dei residenti, ma ovviamente anche per tutto quello che invece questo rifletterà in termini di sviluppo socio-economico. Un problema annoso che caratterizza il capoluogo di Cartoceto da lontano 2012 e 2013, che rispettivamente hanno visto il crollo di un tratto della cinta muraria di Via Cavour e di Piazza Marconi. Qua in Piazza Garibaldi ci accingiamo ad avviare l'importantissimo cantiere per 810 mila euro appunto di messa in sicurezza di questo tratto che riguarda Via Cavour. Per una parte questo significherà una demolizione, una ricostruzione del muro e per un'altra invece un intervento di restauro conservativo e di cuci-scucci invece di quello che è il resto del tratto fino a Palazzo del Popolo. Per quanto riguarda Piazza Garibaldi, i lavori inizieranno a partire dalla prossima settimana per terminare all'incirca nella primavera del 2024, mentre l'area di fronte al Teatro del Trionfo, ovvero Piazza Marconi, gli interventi sono terminati. Piazza Marconi è un altro intervento recente che abbiamo concluso per 340 mila euro, molto molto importante anche perché ridà luce, lustro e piena fruibilità al Teatro del Trionfo e poi soprattutto ricordiamo che anche con il prossimo investimento che riguarderà il Teatro del Trionfo che diventerà il primo polo performativo multisensoriale in Italia grazie all'investimento e al finanziamento di 2 milioni di euro del Ministero della Cultura, è chiaro che da questo punto di vista diventa molto molto importante la piena fruibilità di Piazza Marconi. Il terzo intervento, non meno importante, invece riguarderà Via delle Mura per 430 mila euro e qui invece si tratterà di un vero e proprio intervento di messa in sicurezza di tutta quella che è la parte che sta al di sotto di Piazza Garibaldi, di Via delle Mura e per altri invece per il secondo tratto di Via delle Mura parliamo invece di un intervento di copertura e quindi anche lì di riqualificazione e di restauro conservativo di un precedente intervento che era già stato eseguito. Infine altri finanziamenti sono stati dedicati ai sottoservizi. In quella montare totale di cui parlavo prima c'è anche un recente finanziamento da parte del Ministero dell'Interno che riguarda la realizzazione, la riqualificazione di sottoservizi in Via Marcolini all'intersezione con Via Mazzini che consentirà una miglior regimentazione delle acque meteoriche e quindi questo sicuramente ridurrà il rischio di allagamento che invece purtroppo abbiamo visto nell'agosto del 2021. Il borgo storico di Cartoceto, finiti questi tre interventi da parte dell'amministrazione che hanno visto un impegno direi molto molto importante ma al tempo stesso concreto in questi anni perché il bilancio è all'incirca di 3 milioni e mezzo di euro spesi in interventi di messe in sicurezza e di riduzione del rischio idrogeologico. Vedono mancare soltanto l'ultimo tratto finale di Via delle Mura che invece sarà un prossimo intervento su cui dovremo mettere ulteriormente mano e poi dobbiamo dire davvero che speriamo, diciamo gli scongiuri insomma, che gli interventi di messe in sicurezza all'interno del centro storico saranno finalmente terminati. Proseguono spediti come da programma i lavori di costruzione del nuovo cinema, teatro e auditorium per la musica Giovanni Santi a Bottega nel comune di Vallefoglia. Attualmente le ditte incaricate dopo aver collocato le pareti divisorie interne sono impegnate nell'installazione degli impianti di condizionamento, di ariazione, elettrici, idrici e dei servizi igienici, mentre all'esterno, fa sapere il sindaco Ucchielli, sono già stati fissati i montanti che sosterranno le vetrate. Gli uffici comunali intanto hanno già provveduto ad inoltrare gli ordinativi per la fornitura degli impianti audio e luci per cercare di portare a termine quanto prima questa opera pubblica. Ricordiamo che il nuovo teatro avrà una capienza complessiva di circa 340 posti e potrà ospitare diverse iniziative teatrali, musicali, culturali e cinematografiche organizzate oltre che dall'amministrazione comunale dai vari istituti scolastici, dalle diverse associazioni operanti nel territorio e da quanti avranno la necessità di avere a disposizione questa struttura a servizio dell'intera vallata. A Rosciano di Fano sono in addirittura d'arrivo invece i lavori lungo la Flaminia, interventi di messa in sicurezza del tratto che dalla vecchia chiesa arriva fino alla zona commerciale, un'operazione dal costo di 100.800 euro che ha visto coinvolti comune e provincia. Tutti i dettagli li sentiamo nell'intervista realizzata all'assessore Brunori. Anche l'intervento sulla strada provinciale di Rosciano, esattamente, precisamente, diciamo, dalla vecchia chiesa sino alla zona commerciale, si sta concludendo, sta arrivando veramente alla fine. Ricordiamo che è stato un intervento che abbiamo realizzato insieme alla provincia, un intervento di 100.800 euro, dove 40.800 euro sono state messe dalla provincia attraverso un bando del MIT e il restante, quindi, 60.000 euro li abbiamo messi noi come comune proprio perché riteniamo questo intervento molto importante. Quello è un punto dove sono accaduti tanti incidenti, tra cui anche uno mortale. Queste cose non devono accadere, quindi tutte le misure che sono volte alla sicurezza delle persone naturalmente devono essere messe in campo. Oggi abbiamo realizzato un nuovo, diciamo, marciapiede a raso e poi rialzato per quanto riguarda la parte dove ci sono tutte le attività, anche, diciamo, in collaborazione con la loro disponibilità e con le loro esigenze. È un attraversamento, è, diciamo, un marciapiede che si prolunga sino all'innesto con poi quello che invece è il centro abitato, quindi crea di fatto un collegamento. Poi abbiamo ampliato anche invece dall'altra parte della strada l'attuale marciapiede, non solo la sezione e quindi dello stesso, ma lo abbiamo prolungato sempre verso chiesa di modo che tutte e due le arterie potessero essere percorse da persone, cosa che oggi invece non avveniva perché erano su strada. Oltre questo abbiamo realizzato quattro attraversamenti pedonali illuminati e in questi giorni, proprio da ieri, ma continueranno sino, penso, i primi giorni della prossima settimana, stanno procedendo con l'asfaltatura di questa sezione di tratto interessata ai lavori e anche con la segnaletica. Bene, oltre questo stiamo anche accelerando anche tutto quello che è la progettazione per la rotatoria perché ricordiamo che successivamente a questo intervento avevamo annunciato che ci sarebbe stato un secondo intervento proprio all'ingresso del quartiere, quindi abbiamo riattivato anche quella tipologia di progettazione lì e non appena saremo pronti potremo veramente dare una risposta completa. Nei giorni scorsi la Regione Marche ha chiesto la proroga al 31 ottobre del 2023 del termine per la presentazione delle domande di ristori dei danni subiti da privati e imprese a seguito dell'alluvione del 15 settembre scorso. Il presidente Francesco Qualoli, commissario delegato, ha inviato all'istanza il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. La scadenza era precedentemente fissata per il 10 di agosto. La Regione ha chiesto di prolungare i termini per permettere a famiglie e imprese di poter presentare le istanze per la ricognizione dei danni e la quantificazione dei contributi. L'apposita ordinanza è attualmente in fase di bollinatura e dovrebbe essere di prossima pubblicazione. E cambiamo argomento. Aset, S.P.A. e i centri estivi Jump insieme per un mondo migliore. Questa mattina al centro sportivo di Baia Metauro i ragazzi muniti di guanti e sacchi hanno ripulito la città dai rifiuti abbandonati dagli incivili. Vi vediamo di più nel prossimo servizio. Un mondo pulito è un mondo più bello e un mondo più sano. Oggi siamo presso uno dei centri estivi sportivi Jump a Baia Metauro e tra qualche istante inizierà la raccolta differenziata in collaborazione a un progetto educativo insieme ad Aset. Noi siamo operativi, venite con noi. Aset è al fianco della realtà Jump per quanto riguarda l'ambiente. Differenziale in maniera corretta parte dai bambini, che giocando imparano e sensibilizzano l'attenzione che merita l'ambiente oggi più che mai. E si parte proprio dalla teneretà, la consapevolezza e l'impartizione della buona pratica di rispettare l'ambiente, inserendola negli obiettivi del percorso educativo dei centri estivi Jump. Al microfono per noi, il responsabile dei centri estivi, Filippo Govoni. Noi siamo molto orgogliosi di questo progetto che stiamo portando avanti da diversi anni. Siamo molto orgogliosi perché è un progetto che mira a sensibilizzare e educare gli uomini del futuro, i nostri bambini, i nostri giovani d'oggi, a riciclo, al mantenere pulito. La nostra iniziativa si chiama Jump un mondo pulito, quindi a mantenere questo mondo pulito. Soprattutto vedendo le difficoltà, le criticità che i rifiuti ci stanno dando. Quindi siamo molto orgogliosi perché è un progetto dove i bambini imparano tutto questo e come abbiamo visto poi dalle domande che abbiamo fatto prima, sono anche molto attenti e già molto informati su questo problema. Anche la presenza dell'assessore Barbara Brunori ha evidenziato l'importanza dell'educazione ambientale dei piccoli, volani di generazioni future. È una giornata vera di prevenzione, io la definirei così, proprio perché l'educazione ambientale fatta sui bambini, ma anche in collaborazione con i ragazzi, è uno strumento educativo veramente eccezionale. Uno strumento educativo perché i bambini acquisiscono velocemente quello che è il significato della loro attività, tanto che abbiamo appena avuto un confronto ed è stato davvero nutriente perché i bambini scambiano un'immagine, gli associano l'importanza e la riportano agli adulti. Quindi veramente confidiamo in loro perché sono una grande prospettiva di crescita, non solo per l'ambiente che viviamo ma per tutta la città. Si riconferma soddisfatto della collaborazione al progetto Mondo Pulito anche il presidente di ASET Paolo Reginelli. Questo è un momento magico perché abbiamo tutti gli elementi che ci interessa avere, nel senso che abbiamo una bella partecipazione di questi bambini, dei comportamenti virtuosi che danno adito ad un comportamento che poi nel tempo si ripeterà, una bella collaborazione con questi centri estivi che si prendono una bella responsabilità durante l'estate e che derogano un servizio non indifferente da questo punto di vista. Quindi ASET in questi momenti c'è sempre perché si tratta di parlare di ambienti, di salvaguardia dell'ambiente, quindi di comportamenti responsabili e positivi per tutto quello che ci circonda. Fatto poi dai giovani è la nostra miglior garanzia perché noi le riteniamo a tutti gli effetti le nostre migliori sentinelle all'interno del territorio, meglio delle videocamere, meglio degli accertatori che abbiamo in giro e quant'altro perché all'interno delle nostre famiglie sono quelli che ormai ci dicono esattamente quello che dobbiamo fare e lo fanno anche con scienza e coscienza da questo punto, quindi c'è solo da ringraziarli. Cinque cooperative e tre associazioni di volontariato hanno aderito al progetto di valorizzazione dei servizi ricreativi d'estate attuato dalle comune di Fano e in parte anche nel territorio dell'ambito. Ciò implementa soprattutto la partecipazione di bambini disabili e di anziani non autosufficienti i quali possono partecipare a percorsi educativi soprattutto nei luoghi aperti e sicuri accogliendo le esigenze e i bisogni delle famiglie. Il servizio Massimo Foghetti. I centri estivi costituiscono un servizio di grande importanza per le famiglie, i cui entrambi i genitori lavorano. Terminato l'anno scolastico, chi non ha un sostegno parentale si troverebbe in grande difficoltà, a maggior ragione per le famiglie che si prendono cura di un figlio disabile o di una persona anziana non autosufficiente. A costoro giunge in aiuto un'iniziativa assunta dall'assessorato a welfare di comunità che pubblicando un avviso di pubblico interesse è riuscito ad attuare una coprogettazione con alcune cooperative ed associazioni che prevede la valorizzazione dei servizi ricreativi extrascolastici per bambini e adulti disabili. Chi mette a disposizione il suo personale, chi le sue risorse, chi implementa i suoi progetti, chi organizza laboratori oppure opera nel mondo dello sport, valorizzare la socializzazione e l'integrazione sociale, rivolgendo attenzione allo sviluppo di capacità relazionali soprattutto tra bambini e ragazzi con disabilità nel periodo estivo e questo è l'obiettivo che presentato insieme all'assistente sociale Sabrina Bonanni si è prefisso l'assessore Dimitri Tinti. Promuovere, potenziare, valorizzare percorsi di inclusione di ragazzi, ragazze, bambini, bambine con disabilità e anche adulti in alcuni casi proprio per farli partecipare nel migliore dei modi alle attività estive extrascolastiche quindi in spazi aperti, protetti sia nei centri estivi comunali, negli oratori, quindi tramite queste sinergie che si creano tra pubblico e privato sociale, in questo caso il terzo settore, si creano davvero nuove opportunità o maggiori opportunità. Quali sono le risorse a disposizione sia dell'ambito che del comune di Fano? Allora, l'ambito ha messo a disposizione 21 mila euro e questi 21 mila euro derivavano da economie e da altre progettualità, vanno a potenziare, a valorizzare l'attività in particolare di 38 ragazzi, ragazze, bambini e bambine di cui 15 a Fano e 23 negli altri comuni, in tutti gli altri 8 comuni dell'ambito. Il servizio sociale associato al comune di Fano ha messo a disposizione ulteriori risorse, in particolare sono 43 mila euro che vanno invece a sostenere l'attività inclusiva, appunto gli inserimenti, il potenziamento delle ore del personale nei centri estivi di 56 bambini, bambine, ragazzi e ragazze e 22 adulti sempre con disabilità. E quali sono in ultimo le associazioni, le cooperative che hanno risposto a questa manifestazione di interesse? Sono sette cooperative sociali, sono la cooperativa Cosmarc, la cooperativa Nuovi Orizzonti, la cooperativa La Macina, la cooperativa Gio e la cooperativa Poliscop. Poi ci sono tre associazioni di volontariato che sono l'associazione AGFI, che è l'associazione Genitori e Figli per l'Inclusione, l'associazione Onfalos e l'associazione Papa Giovanni XXIII. Ed ora ci spostiamo al Mississippi di Gavicemare, dove giovedì scorso si è svolto il convegno Fattore Q per la presentazione del concorso promosso dalla Regione Marche per la riqualificazione dei territori interni marchigiani. Speriamo nelle progettazioni che siano riqualificazione, progettazione e qualità, sono queste le parole chiave, gli obiettivi centrali del convegno svolto sia a Gaviccia il 27 luglio scorso. Durante la tavola rotonda sono stati presentati gli spazi pubblici dei comuni, oggetto del concorso di progettazione promosso dalla Regione Marche, Federarchi Marche e Federazione Ingegneri Marche, rappresentati rispettivamente dalla Presidente Ordine Architetti di Pesor Urbino, Carmen Storoni, e dal Presidente Ordine Ingegneri di Pesor Urbino, Renato Morsiani. Tre comuni vincitori, tre progetti innovativi, con l'obiettivo di proiettare i territori interni verso un futuro erosio di buona pratica, da lasciare il segno nel tempo, nell'Olimpo dell'Europa dei Borghi. Con il concorso i tre comuni marchigiani hanno presentato le loro idee, finalizzando uno sviluppo economico virtuoso mediante la valorizzazione degli spazi pubblici. È importante riportare la qualità in questa Regione, perché di qualità ne abbiamo già tanta. Possiamo essere nel centro Italia, ma tra le migliori regioni d'Europa, per attrarre il turismo, il turismo esperienziale, per riqualificare le nostre città, i nostri comuni e soprattutto i nostri borghi. In questo caso andiamo a premiare con un milione di euro ciascuno, tre borghi del nostro entroterra, due della provincia di Pesor Urbino, Mercatello sul Metauro e Borgo Pace, e un borgo della provincia di Macerata e Sanatoglia, per la bellezza non solo e la qualità dei loro centri, ma per una rivalorizzazione complessiva del proprio aspetto architettonico, del centro urbano, degli aspetti naturalistici di questi territori, per combattere anche lo spopolamento che tutta la nostra fascia subappenninica sta vivendo da decenni. Possiamo dire che questa è un'aggiunta che è particolarmente vicina ai sindaci e quindi particolarmente vicina alle nostre comunità, senza alcuna distinzione fra costa e territori interni, fra grandi e piccoli centri, tra nord e sud della regione. Sono state giornate intense di competizioni, emozioni, ma anche di allegria e di amicizie che hanno fatto trascorrere cinque belle serate a tutti i partecipanti. Si tratta della ventesima edizione del triangolare di bocce che si è svolto all'Unione Sportiva Ponte Sasso. La gara si è conclusa venerdì scorso con una grande festa per la vincita della squadra del Milan. Oggi siamo a Ponte Sasso ed esattamente al centro sportivo in occasione della finale del ventesimo triangolare di bocce iniziato lunedì 24 luglio. Direi che è andata benissimo per la solita partecipazione che c'è, ormai è un evento molto consolidato. È iniziata 22 anni fa per l'iniziativa di Sentinelli Giancarlo. È un evento che punta tutto sulla socializzazione, un abbinamento bocce-calcio. È proprio Giancarlo che ha istituito queste iniziative che noi con una certa difficoltà cerchiamo di portare avanti anche nel suo ricordo. Le squadre sono tre, come si chiama Inter-Juve-Milano. Ogni squadra è composta da vari turni di gioco. Il programma prevede sempre per queste tre sere, ogni sera, la prima partita a coppia. Allora giocano quattro persone, due da un campo e due dall'altra. La seconda partita è a Terna con l'obbligatorio di una figura femminile. Poi adesso, questi ultimi anni, abbiamo messo anche dei giocatori di serie alta che fanno la loro terza parte. E poi facciamo un'altra partita ancora a Terna e finale. Oriano, lei è il CT della squadra vincitrice del Milan. Come è andata questa settimana? In quanti hanno partecipato alla sua squadra? Eravamo 20 giocatori con due donne. Meglio di così non potevo andare. Avevo dei buoni giocatori quest'anno e quindi è andata benissimo. Roberto, ma lei ci voleva svelare un segreto di Oriano. Qual è? Fin da ragazzo lui era bravo in tutto quello che faceva a livello di sport. Bocce, Biliardo ed altre cose. E allora, siccome migliorava sempre di più, gli hanno dato un soprannome. Sapete qual è? Aceto, perché più si invecchia e più migliora. Poi un'altra curiosità di Oriano è diventato ancora una volta bisnonno. E allora ci fate un Forza Milan insieme? Uno, due, tre. Forza Milan! Forza Milan! Devo fare i complimenti al gruppo del Milan. Non so se il Milan veramente ha fatto una festa così grossa quanto ha visto la Champions League. Io credo di no. E con questo servizio di Cristiana Guerra chiudiamo il nostro telegiornale. Però vi ricordo che subito dopo di noi ci sono le previsioni del tempo. E a seguire un approfondimento dedicato alla nuova Fano Visit Card. E poi uno speciale dal titolo Fattore Q. Qualità del progetto, qualità degli spazi pubblici. Dedicato alla riqualificazione appunto degli spazi pubblici dei territori interni. Che si è tenuto la scorsa settimana a Gabice Mare. Ed è veramente tutto. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento torna domani mattina alle 7 con la Rassegna Stampa. Buona serata. Grazie a tutti.